Questo sono io e queste sono le armi più assurde e folli di questo mondo Gli scienziati hanno creato delle nuove armi di distruzione di massa e noi dobbiamo assolutamente rubarle Si parla anche di un'arma che è in grado di comandare la mente umana Ragazzi ci siamo, Fort Zancuro Ora mi trovo qui in questo momento perché ci sono molti pettegolezzi Non so se si dice pettegolezzi ma dei rumor che qui stiano sviluppando qualcosa di davvero incredibile Delle armi di distruzione di massa capaci di fare delle cose pazzesche agli umani Ma senza ucciderli, una specie di forma di tortura o qualcosa di simile E quindi ragazzi oggi sono esattamente qui per scoprire di che cosa si tratta E se è possibile rubare sia i veicoli che le armi speciali per venderle al miglior offerente Sapete, è la mia specialità Ma oggi voglio entrare appunto dentro Fort Zancuro per riuscire a capire se questa è una verità o una menzogna Quindi ragazzi vediamoci di avvicinarci verso il punto più accessibile di Fort Zancuro Che è la recinzione principale, la singola recinzione come vedete con la strada a livello Vediamo se riusciamo a fare un bel buco qui e entrare e scavalcare Ok fatemi un attimo aprire un buco nella recinzione Ok e vediamo se riesco ad entrare in qualche modo E ci sono ragazzi, sono dentro Perfetto siamo dentro Fort Zancuro e nessuno sa che siamo qua È tutto completamente in stealth, in privato, in silenzio Ok quindi a farmi abbassare la visiera E vediamo se riesco a vedere qualcosa di più qui Che hai fatto? Perfetto Visione notturna abilitata Allora come vedete questo campo mi sembra abbastanza vuoto Al momento siamo appunto venuti di notte apposta Per riuscire a fare qualcosa un po' più in silenzio E leggermente di nascosto senza farci notare Ok cavolo, 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 cavolo Qualche agente e qualche militare c'è ancora Qualche generale sveglio purtroppo a quest'ora c'è Ma forse riesco a passare lo stesso senza farmi troppo notare Purtroppo la base non dorme mai E quindi dobbiamo stare molto attenti Vedete che ci sono rumori di elicotteri dappertutto Ok qua è vuoto, qua è tutto tranquillo, perfetto Room 1 Vediamo se qua dentro c'è qualcosa di interessante Ok piano 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 ragazzi proviamo ad entrare qua dentro Vediamo se abbiamo accesso Uh, a quanto pare sì Sembra tutto libero Sembra tutto tranquillo per il momento Vediamo se riusciamo a scoprire qualcosa di più Su quello che stanno facendo i militari all'interno di questa Oddio, ok C'è un po' troppa luce Forse qua non c'ho più bisogno Del controllo e della visione notturna Allora fatemi vedere un po' Se trovo qualcosa di utile Sui documenti ufficiali di questo posto Ok, forse una di queste stanze comunque ci dirà qualcosa di più sicuramente ragazzi Prima do Oh mio dio Ehm, salve Ehi tu, identificati Ah sì salve sono nuovo arrivato Ehm, non ho i documenti al momento con me perché Perché li ho lasciati nello spogliatoio Ma eccomi qua Ok, soldato Devo verificare con la sicurezza interna Ok Ehm, va bene, va bene Faccia pure la chiamata alla sicurezza interna L'unica cosa che posso fare ragazzi è scappare Mi sa a questo punto Oh mio dio Dove sta andando adesso a fare la chiamata? Forse ho un'idea ragazzi Ok, sinceramente non mi viene in mente altro ragazzi Siete pronti? Oh mio dio Ok Ok, non è stata una grande idea forse ragazzi ma Che faccio adesso? Fatemici pensare Ok, ho un'idea Nel frattempo che lui è qui ragazzi Facciamo una cosa Vado in giro a vedere un po' quali segreti nasconde questo posto Fatemi dare un'occhiatina al computer un attimo Ok Oh mio dio Ce l'avevo sotto il naso tutto il tempo Devo trovare la stanza di cui parla il computer Liutante Non lo so sinceramente c'era scritto qualcosa di strano Oh mio dio Vediamo un po' Questo è proprio lui Liute Tenente Tenente Ok Qua dentro dovrebbe esserci un'arma segreta E infatti c'è Military technology Sensible Ok È proprio quello che stavo cercando ragazzi Benissimo Quindi adesso devo riuscire a uscire di qui con questo Con questa cassa qua E non sarà per niente facile Allora forza Ok Via da qui ragazzi Presa 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 Via 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 Insieme a questa devo scappare anche con un veicolo però Perché se no come faccio a uscire di qui Security Oh mio dio No 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 Vai giù 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 Pesa solo questa roba di armi Pesa Come meno uno Non sono sicuro di essere nel posto giusto Ma vediamo se troviamo un'uscita Ok ci sono all'uscita Ci sono ci sono ci sono Però ragazzi sembra tutto a posto Piano Non facciamoci vedere dagli elicotteri O dai veicoli O dagli altri militari E ci siamo ragazzi Praticamente Uh ok Un veicolo Fantastico Fantastico Vediamo se riesco ad aprire Qualcosa qua dietro Perfetto ragazzi Mettiamolo qui E non ci pensiamo più Bene Messo Fantastico Non so bene che cosa ho rubato Ma lo scopriremo molto presto Però ragazzi Ho un'idea con il generale Che dite Torniamo un attimo dentro E andiamo a prenderlo ragazzi Forse ho capito come uscire di qua Ditemi che mi va bene Per favore Ditemi che mi va bene Vediamo se riusciamo a uscire Con l'arma segreta E nessuno dice niente Ci aprite per favore Non ci posso credere Ha funzionato E sapete ragazzi Come ha funzionato Esattamente così Ho il generale qui Ok Ho usato la scusa Che il generale era ubriaco Per portarlo fuori Da qui E portare me fuori da qui E portare anche le armi Fuori da qui Oh mio dio E non solamente questo ragazzi Portare la sua uniforme Fuori da qui Ed eccoci qui Signor generale Lei si sta per svegliare E quindi forse è il momento Di tirarla E trascinarla fuori da qui Non solamente questo Ma volevo anche La sua uniforme E provare anche l'arma Che abbiamo appena rubato Signor generale Quindi grazie mille Per questi Giocattolini Che mi ha regalato Sono molto apprezzati Eccoci qui Ma adesso è il momento Di scendere Ok signore Esattamente così Vieni qui Perfetto E anche l'arma Ragazzi Vediamo esattamente Di che cosa Si tratta ora Sono molto curioso Direi Ma che caspita Ma per Che arma è questa Sembra una specie Di arma aliena Non è possibile Che cosa cavolo Non ho mai visto Un'arma così strana In vita mia Perché così Anime È tipo un dragone Fatemi provare A sparare qualche colpo Vediamo cosa succede Oh mio dio Non so che cosa spari Ma c'è qualcosa di strano Sembrano proiettili Normali Ma avete sentito Il rumore È amplificato E poi perché I colori Sono sempre diversi Non so che cosa Faccia all'umano Ragazzi Ma questa è una Novità incredibile Se questo video Vi stia piacendo Ragazzi Lasciate un like Arriviamo a 3000 like Per un nuovo video Come questo Ok Ora si ragiona Ragazzi Perché questa È una specie Di parata militare Che hanno fatto Qui Sull'aeroporto Di Sandy Shores E ora Ci sono io Vestito Da generale O da qualunque grado Fosse prima Non ne ho la più palida idea Ma sono molto Ben equipaggiato Sinceramente Il che Mi rende Un candidato Perfetto Per entrare E non farmi vedere Insospettire Gli altri militari Vediamo un po' Ragazzi Salve Salve Signori Salve Nessuno Si insospettisce Incredibile Saranno Le mie medaglie E i miei badge Qua Salve Neanche il cane Della Neanche il cane militare Si si Sospettisce Bene Ottimo Ragazzi Ho accesso Diretto Alla base militare Mamma mia Incredibile Guardate Elicotteri Di tutti i tipi Sia da trasporto Che a Pash E vediamo un po' Se riesco ad entrare A vedere qualcosa di più Magari Sull'equipaggiamento militare Soprattutto quello segreto Che è quello che interessa a noi Ok Fatemi dare un'occhiata A quegli armamenti laggiù Magari c'è qualcosa Di cui possiamo Appropriarci Allora Cosa ci può essere qua? Purtroppo sono all'area aperta Quindi io non penso Che ci siano armamenti Più Importanti Di quelli Che sono già conosciuti Al pubblico Giusto Le cose segrete Di certo Non le lasciano qui Infatti Non mi pare di vedere Niente di che Però laggiù c'è qualcosa Di più speciale Perché come vedete Stanno lavorando Su Un jet Eeeh Fatemi dare un'occhiatina Magari troviamo qualcosa Qui Che stanno equipaggiando Di segreto O qualcosa del genere Due compressori Altre armi Sinceramente abbastanza Normali Esplosivi Nulla di che Effettivamente Cosa c'è qua dentro? Perché qui c'è un container Intero? Questo ragazzi Mi insospettisce parecchio E mi incuriosisce parecchio Vediamo se riusciamo A farci aprire Per caso Questo container Vediamo che cosa c'è dentro Oh mio dio Abbiamo fatto bingo ragazzi Non avrei mai creduto Che sarebbe stato così facile Praticamente come Rubare una caramella A un bambino Grazie amico Grazie mille Per avermi aperto Ok Vediamo un attimo Che cosa c'è qua dentro Anzi Sapete che cosa Porterai via questa cassa Anche questa volta Mettiamola dentro Uno dei veicoli Ehi Scusami Ordini precisi Da ancora più in alto di me E questo è dire tutto Che Devo portare via questa cassa Devo metterla nel veicolo Quello Veicolo laggiù Il primo che ti capita Ok Mettiamola su E poi andiamocene da qua Che dici? Bene Molto bene Mio dio ragazzi Questo furto è stato Come rubare Una caramella di un bambino Aspettate però prima Meglio che me vado da qua Che non facciano troppe domande E poi scopriamo Se effettivamente È stato così ragazzi Ma Guardate anche che cosa Mi porto a casa Non male eh E dietro come vedete Hanno sistemato Esattamente La cassa Che gli ho chiesto Di sistemare Quindi ragazzi Veramente non poteva Oh mio dio Ho fatto retromarcia Ho sbattuto un attimo C'è pure il tizio sulla torretta Che mi aiuta In caso di problemi Meglio di così ragazzi Non c'è davvero nulla Guardate che è interno Guardate che veicolo militare Con addirittura una faccia Qua dondolante Bellissimo Quindi usciamo ragazzi Direi da questo posto Prima che si Qualcuno si sospettisca Ed eccoci qua È stato davvero Come rubare Una caramella di un bambino Incredibile Eccoci qua Esattamente qui Volevo andare Ah Benissimo Ehi vieni fuori Un attimo Scendi un secondo Che mi aiuti a portare la cassa Eccoti Bravissimo Fammi un attimo Gestire qui La cassa E oh mio dio Mi scusi Mi dispiace tantissimo Ma devo proprio spararti È ancora vivo Quest'arma non uccide Com'è possibile Che non uccida Cosa Caspita Oh mio dio Oddio Ah Ah ok no Uccideva Va bene ragazzi Allora È il momento di scoprire Che cosa c'è In questa cassa invece Oh mio dio Cosa Che arma è questa Oh cavolo È un'altra specie di dragone Ma perché i militari Si stanno concentrando Su armi del genere Non ne ho la più pala idea Vediamo che cosa succede Se gli sparo Oh Cosa In che senso Sta prendendo fuoco Oh mio dio Non è Oh c'è sangue ovunque Si sta moltiplicando Quindi non è Un lanciafiamme Ma È un auto Spara Fiamme Non lo so D'ora in poi Me le porterò dietro Non si sa mai Che cosa può succedere Da qua in avanti Commentate con hashtag Geniale Se siete arrivati Fino a questo punto E fatemi sapere Se non è stato geniale Rubare un'arma così Vestendosi da generale O qualunque grado Io fossi Allora Fatemi dare un'occhiata Un secondo Di lasciare L'arma di nuovo Nella sua sacchettina Qui Finché non troviamo Una sistemazione migliore Direi Ok Perfetto Questa che cos'è Gun detection system Stiamo usando YOLO V3 Non ne ho La più pallida idea Ma qui C'è un indirizzo Di un deposito Di armi Ok Potrebbe essere utile E interessante ragazzi Che dite Proviamo ad andarci Magari scopriamo qualcosa Di cui Non eravamo a conoscenza Ok Ok Perfetto Allora Ragazzi Non so bene dove sono Ma Indicava Questo hangar qui È semplicemente Un hangar aereo Sono in una parte Un po' strana Di Los Santos Molto fuori Los Santos Però sembra che siamo arrivati Esattamente nel punto giusto O almeno È quello che sembra Ci sono delle persone Che stanno lavorando Sicuramente a mezzi Militari Proviamo ad entrarci Ancora di più Dentro quest'area Per ora sono riuscito A eludere i controlli Fino adesso Ovviamente mi sono portato Il borsone E invece di avere Quelli che sarebbero Gli attrezzi da lavoro Per riparare Le armi E aggiustare Sicuramente Assicurarmi Che sia tutto ok Qua dentro Ho le altre armi Quelle che ho rubato Precedentemente Che dovessero servirmi Ragazzi Sono sempre qua Sono pronto Oh mio dio Qua ci stiamo inoltrando Dentro una bella Galleria Un tunnel Una specie di tunnel Scavato dai militari Qualche militare c'è Però non vedo nulla Di troppo troppo strano Però proviamo ad entrare Ancora Vediamo dove ci porta Sicuramente qualcosa Cosa di segreto Qua lo troviamo Ragazzi Ci sono aerei Ci sono cose di tutti i tipi Non so perché la sicurezza Non sia ancora maggiore Sinceramente Penso sia una falla Anche se Comunque Un bel po' di avamposti Li abbiamo passati Con questa scusa Ma inoltre Vediamo un po' Magari veramente C'era qualche tecnico Che doveva arrivare A riparare le armi O a comunque sistemare E controllare Che sia tutto ok E quando Ragazzi Vedo una cosa del genere È il momento Di preoccuparsi Perché guardate Che armi ci sono qua Pazzesco Ehi scusami Quindi le armi Si trovano qua Sono il manutentore Per la Sì Manutenzione straordinaria Ok Bene In fondo a questo tunnel Dici? Ok va bene Va bene Arrivo subito Grazie Allora Ha detto in fondo a questo tunnel E già in effetti Vedo delle casse Laggiù Ma guardate quanti esplosivi Ci sono qua Potremmo Veramente far esplodere Un'intera nazione Con tutte queste armi È davvero una cosa Purtroppo un po' Raccapricciante Ma Incredibile Allora Vediamo un attimo Queste sembrerebbero essere le armi E c'è scritto Military technology ovunque Quindi forse vale la pena Darci Un'occhiatina A queste casse qua Che dite Secondo me troviamo Delle cose davvero pazzesche qui Allora Allora Vediamo un secondo qui Oh mio dio Ho trovato qualcosa Ragazzi Che potrebbe essere Davvero davvero interessante Guardate quest'arma Wow ragazzi Davvero davvero fantastica questa Ehi scusami Invece di starmi così attaccato Mentre cerco di pulire le armi Mi puoi dire una cosa Per favore Quell'arma super famosissima Che sembra che abbiano sviluppato Ma anche segretissima Che ha il controllo Sulle menti umane E cose del genere È vero È vero o non è vero Sì È un'informazione riservata Come fa a saperlo Ah Eh beh io Solo io e i superiori Possiamo averne conoscenza È ben custodita Nel bunker del deposito Nel bunker del deposito Ah sì sì esatto Certo certo Beh ci sta Ci sta Allora qua mi sembra tutto Ok È tutto perfetto Almeno per ora direi Mi scusi ma che sta facendo In che senso Non sono questi Gli standard di sicurezza Ehi Gli standard di sicurezza Ma tu non sei un vero tecnico Oh mio dio No aspetta Io sono un vero tecnico Che cosa stai Oh Oh no Sta andando a chiamare qualcuno Sicuramente Oh no 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 Aspetta 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 Oh cavolo Questo è un bel problema ragazzi adesso Questo è un bel problema Oddio Oh no aspetta Che cosa ho fatto Ho sparato per sbaglio Oh 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 via da qua Via da qua Oh no Oh 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 cavolo Oh Oh no 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 Ehi Oh mio dio Oh caspita Oh Ok ho fatto un danno Ho fatto un danno Ho fatto un danno Ho fatto un danno Oh mamma sta venendo anche di qua il fuoco Oddio 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 Devo andarmene via È qui Prima possibile Il prima possibile Oddio Sta arrivando qualcun altro Oh mi stanno sparando Oh Dove Qua Oh mio dio Ehi Fermati Oh mio dio Ma che caspita Ma che potere ha quest'arma Li hai immobilizzati tutti Ok Ok forse è meglio se me ne vado di qui Forse è meglio se me ne vado Ho scoperto che potere ha quest'arma È meglio andarsene direi Oh mamma Ok prima che ne arrivino altri Forse è meglio se ce ne andiamo però Ok via 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 Sono quasi fuori Non sembra che ne siano arrivati altri Forse non hanno poi fatto una chiamata così grande Ok questo ci sta Che dite Forse questo Uh Quattro cannoni Direi che è proprio quello che dobbiamo rubare Via 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 Abbiamo un'arma in più ragazzi adesso E sappiamo anche che cosa faccia Non so poi quanto utile sia Ma comunque sembra abbastanza utile lo stesso no Un'arma che fa immobilizzare tutti i nemici Non è per niente male Come caspita si guida sto coso Oh Perché fa bip 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 Che cosa ho fatto Non mi piace tantissimo Oh mio dio Fatemi vedere se riesco Premendo questo pulsante forse Lo fa ancora Oh però adesso si muove Poco poco alla volta Però lo fa ancora Oddio perché la torretta si muove così tanto Non mi piace come cosa questa sinceramente Oh Oddio ok Beh andiamocene via Non so guidarlo Non so comandarlo giustamente Quindi Forse è meglio se ce ne andiamo di qui Oddio no 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 Stanno arrivando Ok via 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 Come si usa questo coso Come faccio a sparare con questo coso Non ne ho idea E non so nemmeno se sia possibile Sinceramente C'è qualcosa che non va a sembrare automatico Ma anche non automatico Non lo so sono laggiù Però non credo che funzioni qualcosa Oh mamma Forse è meglio se ci nascondiamo Finché la situazione non sia calda Ma almeno ragazzi adesso sappiamo Che per rubare quell'arma segreta Devo arrivare al bunker del deposito Qualcosa almeno in più di prima Lo sappiamo Ok ragazzi Abbiamo finalmente tutto Sono pronto Quindi Ora ragazzi Si ragiona Guardate un po' Dove mi trovo In una zona di test militare Ah Proprio quella in cui mi aspetto Che sia L'arma segreta Che controlla tutti Guardate che cosa stanno testando qua Nella galleria del vento C'è davvero qualcosa di incredibile E per ora Tutti quelli Con cui ho avuto a che fare O sono scappati Perché impauriti Dalla mia potenza Oppure Sono semplicemente morti E devo Dirvi la verità ragazzi Non so perché adesso Ho una stella di polizia Inutile come poche cose al mondo Sinceramente Eccoci qua Sezione 1 Livello 6 Ragazzi Da questo tunnel Non si torna più indietro Se non con l'arma segreta Qualunque essa sia Lo voglio scoprire E la voglio rubare In questo istante Ok Oh mio dio Ok Il tunnel ragazzi Si fa sempre più stretto Non so per quanto io possa Ancora Continuare A usare Il carro armato Sinceramente Ma Noi ci proviamo Oh caspita Ecco che mi inizio a incastrare Oh mio dio Non ci sono per ora nemici Non c'è nulla di strano Al momento Uh Credo che ci siano molti nemici Tra poco Oh mio dio Mi stanno sparando da qualche parte Ma non capisco bene Da dove Ma continuiamo così ragazzi Continuiamo così Prima o poi arriviamo All'arma segreta Non vi preoccupate Credo che siamo arrivati finalmente Alla porta segreta ragazzi Al vault Dell'arma segreta Che controlla le menti Forse vi chiederete Super perché sei bardato così E beh la risposta È semplice ragazzi Potrebbero uccidermi seriamente Da un momento all'altro E non voglio di certo rischiare Ho la loro arma segreta Più potente E un paio di loro Tecnologie Vediamo se riusciamo In qualche modo Allora Uh ok C'è un tunnel anche lì Devo stare molto attento adesso Vediamo se trovo il modo Di aprire questa porta In qualche In qualche Caspita Oh Che succede Chi era Ok 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 aspetta Ce ne sono altri Ce ne sono altri Ce ne sono altri Non so quanti Ma ce ne sono altri Ok anche lassù Oh mio dio È una specie di imboscata Oh mio dio Ok 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 Devo finirli Oh mio dio Oh mio dio Oh cavolo Ce ne sono ancora Devo bloccarli In qualche modo Oh è tutto che esplode Vai Devo mettere il C4 Proviamo con quello Ok Proviamo in tutti i modi ragazzi Proviamo a metterne Più possibili Più possibili Vediamo se riusciamo A farle esplodere Attenzione 3 2 1 Oh caspita Le esplosioni erano belle Forti direi Ok Entriamo all'interno Ok Entriamo all'interno Ok Entro Perfetto ragazzi Sono dentro Non mi aspettavo Un altro tunnel Ah cavolo Deve essere ancora lunga La situazione ragazzi Speriamo che non sia Troppo esagerata È davvero infinito Questo posto ragazzi Non so dove mi porterà Sinceramente Ma guardate un po' Oh Mi piace Qui sembra che costruiscano Altri armi ancora Di tutti i tipi Ma proviamo ad arrivare Da questa parte Non so chi mi stia ancora sparando Non lo vedo Vediamo che cosa c'è Là in fondo Oh mi piacciono Questi segni ragazzi Forse siamo riusciti Ad arrivare All'arma segreta Finalmente Non posso credere Che tengono tutto questo Al segreto Dai cittadini americani E anche quelli del mondo Sinceramente Del resto del pianeta Oh mio dio Non so che cosa sia questo Ma mi sa che Finiamo sott'acqua E non so se sono Del tutto preparato Ma proviamoci lo stesso Ok Credo ragazzi Che ci siamo Questo è un tunnel Scavato ancora più in sotto Probabilmente si allaga In certi momenti Ma al momento Sembra essere Perfettamente funzionante Oh mio dio Non so che cosa sia succedendo Ma ragazzi Credo che Qualunque cosa Sia in fondo A questo tunnel Sia la soluzione La chiave Non so perché Tutto si muova così Ma una ragione Deve esserci Speriamo ragazzi Di non finire morti O intossicati da qualche parte Da questa sostanza O qualunque cosa sia Oh mio dio Non so che cos'è Ma sicuramente L'arma è questa cosa qui Ok Avviciniamoci Avviciniamoci Prestando molta attenzione Credo che qualunque cosa sia Si trovi dentro quella scatola In cima lassù Ok Proviamo ad andarci Cosa? È un pezzo di legno Perché c'è un pezzo di legno qui? Proviamo a prenderlo Ok Presa Oh mio dio È letteralmente Una bacchetta Perché c'è una bacchetta? Che potere ha Una bacchetta? Non lo so ragazzi Ma lo scopriremo Molto presto e Credo Che con questa Io non abbia più bisogno Di tutta l'armatura Quindi forse Me la posso anche togliere Ok Ed eccoci qui Liberi Da ogni cosa Con la bacchetta Proviamo a tornare di sopra E vediamo un po' che cosa succede Oh mio dio Oh Wow Oh caspita Oh caspita Che cosa fa? Che succede? Che succede? Oh mio dio Comando veramente Tutti quanti E sono letteralmente invincibile Non succede niente Non mi succede niente Riesco a A fermarli tutti Riesco a fermarli tutti Ok Fantastico Wow ragazzi Lasciate un like Se questo video vi è piaciuto Iscrivetevi per nuove episodi Avete visto che arma Incredibile La bacchetta di Harry Potter Detto ciò Non perdetevi uno di questi due video qua Ragazzi Quello che vi piace di più O questo qui O questo qui Cliccate su quello che preferite Detto ciò Grazie mille a tutti Arrivederci Grazie mille a tutti